La lava nel mondo si alza ogni 30 secondi ragazzi E infatti adesso dobbiamo entrare nel portale Allora dice che il mio goal è andare ad uccidere l'endredragon Perfetto No raga qua c'è già della lava cos'è sta roba Ho paura Guardate che questo è un livello stra difficile Senza queste chess dice non puoi andare nel end Ok raga abbiamo iniziato Adesso devo iniziare a prendere tutte le cose perché Praticamente guardate che funziona così Adesso c'è anche la musica di Scooby Doo Oh porca puzzola Guardate qua c'è nel senso qua è pieno di lava raga E guardate che la lava sale stra velocemente E dobbiamo super completare le cose in modo super velocemente Guardate che c'è è stra difficile questa sfida Infatti tutti insieme adesso dobbiamo cercare di farcela Prima prendiamo il legno che è essenziale Ok adesso ho preso il legno Adesso praticamente Lo trasformo tutto quanto Dice che la lava si è alzata Veloci 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 Ok perfetto Prendiamo gli item Che sono tutti questi qua Vabbè dammi tutto Ah tutto pazzo Perfetto Via via Ok perfetto Dovemmo andare da tutte le parti raga Dovemmo iniziare a salire perché Se no non va bene Qua invece cos'è che c'è Perché questa lava si alza ogni 30 secondi Si è già alzata di un livello Non c'è un beato ceppo di niente Io come faccio ad andare Ecco già male Già parto male Già parto malissimo Già parto malissimo No no è Già parto malissimo però Raga aiuto Non morire ti prego Ok grazie Andiamocene via 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 Scappiamo prima che Sia troppo tardi Raga Dai Rinasci Veloce Forza Andiamo Raga è stra difficile Ok adesso devo saltare qua Perché è praticamente Stra impossibile ormai Guardate che Cioè non sto scherzando È difficilissimo Adesso devo farmi La crafting table E praticamente mi devo Perché ho messo 30 secondi Io volevo fare una sfida Stra interessante Stra difficile Però è impossibile Così con 30 secondi Mi si è anche tolta la musica di Scooby Doo Perché letteralmente ormai È impossibile Cercare di Di avere la musica di Scooby Doo Scusate se A volte parlo Un po' così Però praticamente Cioè bisogna Straconcentrarsi qua Altrimenti non si riesce a fare un beato C'è un po' di niente Il che Non è buono ovviamente Ok Cosa devo Oh porca puzza Raga devo salire fin No ti prego Ti prego Te lo imploro Allora Dobbiamo salire Ormai è ora Direi è ora di salire Perché se no qua Ci lasciamo le penne Quindi Saliamo 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 Raga dove Cioè qua c'è un sacco di isole Però il fatto è che È un problema questo Raga perché non ho blocchi Non ho blocchi Come faccio a salire io se non ho blocchi Cosa Dove devo andare Ok posso andare da questa parte No raga è impossibile Cosa Come posso fare Non ho più blocchi Ok credo letteralmente Che io abbia appena perso La sfida Cioè cosa devo fare raga Non posso più fare niente Vedete là sopra C'è una cassa Ho dovuto ristartare per forza Il gioco Perché L'ho dovuto proprio rifare Allora adesso Dobbiamo praticamente Salire sempre più su E dobbiamo anche stare attentissimi A non cadere nella lava Ti prego Tasto shift Resta con me Perché sappiamo bene Che il tasto shift Della tastiera Praticamente È cattivo E mi fa cadere apposta Perché Insomma Cioè nel senso Come fai a non voler Far arrabbiare Dunis No vero Cioè ovviamente È bellissimo Far arrabbiare Dunis Però sto scherzando Chiaramente Cioè nel senso Vabbè Insomma Andiamo avanti E praticamente qua Guardate C'è questo posto qui Che praticamente Se lo raggiungo Se mai riuscissi a raggiungerlo Ipoteticamente Chiaramente parlando Perché evidentemente Sono un po' stupido E non riuscirò mai A fare nient'altro Oltre a questo Nella mia vita No sto scherzando Però praticamente Guardate qua Cioè nel senso Adesso Siamo su questo Su quest'isoletta Il che è un po' problematico Perché Secondo me Non abbiamo molte altre risorse Per salire E la lava Vi ricordo Sta salendo sempre più Noi dobbiamo raggiungere Quelle ceste Per poter completare il gioco Il che è letteralmente Impossibile per me In questo momento Perché Cioè Cosa faccio io adesso Cioè tipo Cosa devo fare Allora salto così Boh L'unica cosa che mi viene in mente È questa raga Però Non so nemmeno se la raggiungo Quell'isoletta lì Ok Continuiamo Così Ok Dopodiché Non spiegamo tutta la terra Ovviamente Però qua Ok Allora Qua ci sono Gli occhi dell'enderman Dopodiché C'è un'ampolla Ma cosa me ne faccio io Dell'ampolla Ma stiamo scherzando Devo raggiungere altre isole Per prendere altre risorse Per forza Ok Ultimo Blocchettino Di scale Adesso posso Praticamente Scendere qua E prendere del legno Dopodiché salire col legno Salta qua sopra Ok Allora Adesso ce la possiamo fare Praticamente Prendiamo la terra Tutta la terra Allora Il trucchetto Sta nel fatto Di riuscire a prendere Praticamente Questa lava Cioè questa No la lava No assolutamente Prendere la lava Mai nella vita Soprattutto in queste modalità Dove sale La lava Insomma Cioè il male Però praticamente Tecnicamente Dovrei fare questa cosa qua Ovvero Prendere un po' I minerali Che ci sono No in realtà Lo smeraldo Non mi serve Praticamente Non è totalmente inutile Questa era una scala Ancora più inutile Io direi di passare Invece Alla prossima Isola Aiuto No vabbè ma raga Ma sta laggando Pure tantissimo Allora Là sopra Vedo Uno squarcio Di possibilità Di raggiungerlo Se mai ce la faremo Ok così Della terra Perfetto La terra la possiamo utilizzare Per salire ancora di più Quindi più saliamo Più riusciamo a raggiungere La vetta E quindi Una volta raggiunta La vetta Saremo Vettosi Insomma Tutti questi blocchi qua Che stiamo prendendo Ragazzi Sono super fondamentali Inoltre Queste ceste Le devo prendere Per forza Le devo Mi servono Lo so che tu Non le vuoi vedere Però invece io Le devo vedere Non sto scherzando Secondo me A te piacciono Queste ceste Scrivimi nei commenti Se ti piacciono Le ceste Perché secondo me Hai un'affinità Con le ceste Cioè nel senso Te lo dico da amico Chiaramente Nel senso A me piacciono Le ceste per esempio Ma secondo me Anche a te Lo dico così Ma guarda Cioè guarda qua Quanto caspita Sta laggando Il gioco Perché la lava Continua a salire Più sale Più ci sono robe Là c'è un villager Io non so Non dico Che è totalmente inutile Però Potrebbe essere Una leggera perdita di tempo Anche perché il villager Sinceramente Non ho degli smeraldi Ok Non posso utilizzare Gli smeraldi Però posso andare Verso le altre isole Quindi adesso Prendo un po' di materiali E vado È praticamente Una volta presi Tutti questi materiali No vabbè Ma scusami Che lag No vabbè Ma che lag C'è un lag Pazzesco Tu dammi il blocco Perché Cioè vi immaginate Se mi dà la sel Cioè che non mi serve Un beato ceppo di niente No A me serve il blocco Immediatamente Dammi il blocco Se no devo chiamare I rinforzi Però Mi stavo chiedendo Ho abbastanza cose Direi di no Perché cioè Nel senso Mi sa che sono Totalmente Morto Aiuto Che lag Che lag Raga Avete visto Di un uovo Ma che pezza Oh Vi giuro So lag Non lo sopporto Cioè Voglio proprio denunciarlo Adesso chiamo la polizia Per denunciare Immaginate andare Tipo In questura In questa chest Cos'è che c'è Ci sono delle ampolle Le ampolle mi piacciono molto A me piacciono le ampolle Perché praticamente Mi danno esperienza Se è quello che vogliamo dire Però veramente L'esperienza Qua non è che mi serva molto Sinceramente Cioè detto proprio così Sinceramente Ehm Sapete cosa facciamo invece Dato che Ehm Credo proprio che ormai Questo video sia giunto Alla fine Dovremmo sconfiggere Ender Dragon Io direi di andare in creativa Perché Ehm Così almeno Andiamo fin sopra No E poi andiamo a sconfiggere Ender Dragon Quindi prendiamo tutte queste cose Che mi da qua Non prendo niente della creativa Ma volo solamente Così almeno Raga Facciamo qualcosa Insomma Uccidiamo l'ender dragon Perché solamente salire In questo video Mi sembra un po' Bruttino ecco Cioè non vorrei solamente salire Vorrei anche cercare Di arrivare fin sopra La buttolie Poi dopo Cioè nel senso Poi dopo non lo so Scrivetemi nei commenti Se secondo te È giusto Oppure no Secondo te che mi stai guardando Perché Secondo me È giusto Così almeno facciamo Anche altro Ehm Prendiamo questo Ok Vedete Così Prendiamo tutti gli occhi Del land Così possiamo andare Sopra Qua ci sarebbe Tecnicamente Il tavolo degli incantesimi Il fatto è che Comunque A me non interessa Nel senso Insomma Cosa No 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 Qua stavo per cadere L'avete visto bene Perché sta laggando Quanto Non sto scherzando Sta laggando Troppo Troppo Sta laggando Non è possibile Basta Ma perché continua A darmi cose inutili Ragazzi Cioè veramente Ma adesso Vedi che non bastano Come minimo Ovviamente No se non Mi sa che non basta No vabbè io non ho parole Scusatemi ma Veramente non ho parole Andiamo a sconfiggere L'ender dragon Chissà in che modo Poi sinceramente Perché Non ho niente Non ho nessun'arma Non ho la possibilità Di raggiungere L'ender dragon Quindi mi sa che Mi tocca Di nuovo andare Sì però scusatemi Ma questo doveva essere Un video Abbastanza caruccio Però il fatto è che Io non è che riesco A farlo in 10 minuti Questo video Quindi effettivamente Magari Avrei dovuto Pensarci prima Allora facciamo così Dato che mi sembra Completamente scorretto Questa cosa Cioè nel senso Andare in creativa Sconfiggere Andare da che gusto c'è Magari se volete La ripropongo Questa cosa Cioè nel senso La rifacciamo Questa sfida Però con 60 secondi Perché evidentemente Con 30 secondi È veramente difficile O magari addirittura Con 120 secondi Considerando Che sono completamente Incapace A giocare In questa modalità Quindi se volete Possiamo provare A fare questa cosa E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao cari